Signore e signori, buongiorno dallo stadio olimpico di Monaco, Alberto Giubilo per il Gran Premio delle Nazioni. Il concorrente che vedete impegnato lo conoscete, l'italiano Vittorio Orlandi, a quale è toccato l'ingrato compito di iniziare i percorsi. Comunque finora ci sembra un solo errore, applausi veramente clamorosi dello sportivissimo pubblico per questo nostro cavaliere 34enne, Varesino, che è in sella a una irlandese di 13 anni, Volmar Fedor Duster. Come sempre quando si tratta di cominciare una trasmissione ci sono dei contrattempi, spero però di avere seguito bene il percorso del nostro cavaliere che adesso vedete inquadrato in primo piano in queste immagini del programma mondiale televisivo qui da Monaco. È una giornata molto fredda, abbiamo trovato per esempio il veterinario Girolamo Menichetti che sta qui da stamattina alle 3 e mezza con i cavalli, addirittura in ripeto. Vedremo adesso il comportamento di Vittorio Orlandi. È rimasto anche nel tempo un solo errore, un percorso veramente notevole questo dell'italiano.